Siamo dalla parte della Val di Susa, Napoli è una città che ha subito per decenni, come questo luogo, una sottrazione tollerabile di democrazia che ci ha portato veleni e ci ha portato morti. Oggi siamo qua con una delegazione non solo napoletana, ma di quella che i media vi hanno insegnato a chiamare terra dei fuochi. La terra dei fuochi è un'area vastissima che circonda il napoletano e il casertano nella quale ogni giorno muoiono migliaia di persone e sempre di più muoiono bambini. Non è un veleno casuale, non è un inquinamento casuale, è un inquinamento che negli anni abbiamo subito per un modello industriale sbagliato, un modello industriale che ha favorito i poteri forti, d'accordo con le camorre, poteri forti della nostra terra che l'hanno avvelenata e oggi l'hanno trasformata in una terra di morte. È per questo che siamo qua, stretti e uniti alla lotta dei notab, perché chi depreda e saccheggia i nostri territori, i veri devastatori, coloro che devastano e saccheggiano sul serio i nostri territori e che ci pongono scelte scelerate, che distruggono tutto, le relazioni, la salute, il sistema nazionale ed economico che riguarda tutti noi. Siamo d'essere respinti, siamo dalla parte della Val di Susa, da Napoli a pugno chiuso. In questo momento siamo tutti notab, da Napoli tutti notab e siamo con questa valle che resiste da tempo, le resistenze unite insieme a dire no ai criminali, assassini, ad un governo che ha occupato i territori e che non tiene conto della vita dei cittadini, della vita e della dignità dei cittadini e delle comunità. Ecco, noi siamo in una valle che in qualche maniera insegnava l'esistenza, sempre. Questa era terra di partigiani, come terra dei partigiani era la Campania, come era il Piemonte, come era l'Emilia, come era il Lazio. All'epoca nel 43 sono stati cacciati i nazifascisti, oggi in una praticamente littatura diversa occupano nella violenta i nostri territori e noi non ci stiamo, noi resistiamo. Questa è la nuova resistenza, continua da sempre, ora è sempre l'esistenza, terra dei fuochi ancora tutta nuotata.